ciao a tutti mi chiamo Danilo lui è Lillo sono venuto direttamente da Milano fino a qui a Bratislava per incontrare mio figlio fantastico consiglio a tutti Paolo e Caterina sono persone deliziose che curano con amore i cani come loro sempre sponsorizzano confermo grazie allora allora vai a Milano si che andiamo a Milano si salutiamo a tutti ciao a tutti ciao